Ehi amore, beh ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci, ti amo tanto. Ciao, amore! Ethan! Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Quello che posso dirti è che... se troverai questo... Stanne lontano. Pronto? Ehi, sono... Ethan. Ehi, Ethan, tutto bene? Sei sparito l'altra sera? Sì, va tutto bene, però... Mia... non è morta, lei è viva. È tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma... È tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma... ma lei dov'è? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Merda! Ma sono passati tre anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei... Voglio scoprire qualcosa in più. Lo so, ma lei dov'è essere davvero lei... Questo è il posto. Grazie. Oh... Ho. Qurecchino. Ha. Ho. Ho. Grazie a tutti 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 Cazzo Grazie a tutti 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 Mia Grazie a tutti Mia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mia Mia Grazie a tutti Grazie a tutti Mia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti